Buon Erasmus Days a tutti. Quest'anno davvero una festa grande, prolungata, quasi una settimana di festeggiamenti, di eventi che vogliono valorizzare il programma europeo che ha permesso ormai a milioni di persone di studiare, di formarsi, di lavorare, di fare cooperazione in Europa. Quest'anno più che mai siamo presenti con moltissimi eventi, anche organizzati dall'Agenzia Nazionale, ma un po' in tutta Italia, in tutti i luoghi, con piccole scuole, grandi centri di formazione professionale, educazione degli adulti e università. Davvero una grande festa Erasmus per sentirci parte di questa casa comune che è l'Europa, per sentirci davvero forti con i nostri valori europei. Buon Erasmus, buone opportunità a tutti voi.